Musica Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana dalla nostra redazione e allora lo avete ascoltato nei titoli in copertina alla lunga festa della notte, quella della città di Lecce ma anche della squadra del Lecce che ha abbracciato tifosi appassionati per la promozione in Serie B, un sogno che si attendeva da sei stagioni e che è stato ritrovato dopo il purgatorio anche a causa della contesa della calcio scommesse proprio nelle ultime ore e allora ripercorriamola questa lunga notte, così Da una lunga cavalcalla verso la Serie B, diciamo che questa categoria non ci è mai appartenuta siamo scesi non per meriti, non per demeriti, ma perché ci hanno fatto scendere adesso ci prendiamo questa felicità immensa e ce la portiamo a casa e poi grazie Fatia Forza Lecce, Bari stiamo arrivando Finalmente dopo sei anni di purgatorio torniamo dove quasi ci compete, ci compete in Serie A però va bene con la Serie B È una sensazione meravigliosa, sono stati sei anni difficilissimi ma è bellissimo ragazzi Forza Lecce È una sensazione fortissima È bellissima Forza Lecce Finalmente dopo tanti anni siamo tornati in Serie B Solo 1400 km d'amore per il mio compare Da dove vieni? Da Monteparchi Firenze Sei venuto proprio per la partita? Sì, sì, per la partita, per il Lecce Una follia che fai spesso No, prima sì, adesso no Adesso no Però dai Va bene, va bene Felicissimi Forza Lecce Sei nel cuore di chi crede solo a te Quando non ci sei Il Cielo è vero di chi crede solo a te La scuola è vero di chi crede solo a te